Soffro di stitichezza da una decina d'anni, anzi per l'esattezza undici dalla gravidanza del mio secondo bimbo. Prima avevo più regolarità intestinale perché stavo più attenta all'alimentazione, all'idratazione e poi avevo più tempo libero per fare sport e attività fisica. Per me la stipsi era diventata un problema, un malessere che mi condizionava l'umore e la giornata. Mi svegliavo con la paura di andare in bagno, di provare forte dolore, di causare sanguinamento, lacerazioni e tutto questo si traduceva in mal di testa, timore a mangiare, titubanza nell'organizzazione di vacanze, gite fuori porta, poi un forte peso nella zona finale dell'intestino, bruciore anale e tantissimo altro. Chi non soffre di stitichezza non sa quanto il benessere intestinale possa condizionare la qualità della nostra vita. Rimedi? Medici e farmacisti generalmente consigliano una dieta ricca di fibre, prodotti naturali, lassativi da banco. Guarda credimi, ne ho provati tantissimi di qualsiasi tipologia, natura, colore. Mi sollevavano dal problema per un po' ma poi ritornava e mi sono resa conto di non poterne fare più a meno e il benessere, il beneficio diventava sempre più raro proprio a causa dell'assuefazione. È stata poi un'amica di famiglia a consigliarmi Biofluff per sua esperienza diretta. Ho acquistato l'anno scorso il dispositivo domestico e devo dire che mi è cambiata la vita. Ogni mattina mi riservo dieci minuti di totale rilassamento nel mio bagno prima che tutta la famiglia si svegli e grazie all'acqua, quindi in modo totalmente naturale, questa pulizia intestinale mi fa iniziare la giornata sempre con il sorriso. La sensazione di pulizia e svuotamento è molto piacevole e immediata. Per questo lo consiglierei a tutti, uomini e donne che stanno male a causa della stitichezza e continuano a rimandare il problema pensando si tratti di una fase o semplicemente la normalità. Non è così, prendersi cura del proprio intestino è importantissimo.